brutto bruciato io la fncs mi spiace sono le qualifiche della fncs seconda parte secondo trai ultimo e tu non dobbiamo giocarci tutto nel primo game se facciamo il doppio dei punti necessari nel primo game poi abbiamo l'ora difficilissima e poi in teoria si ammorbidiscono un pelo i game 37 team nettuno e quindi siamo molto in alto mare ancora passi da me ok mi sparano potrei morirci no non morirò non ci provo non ci provo mi sparano ancora mi inseguono nettuno e ne ho due qua e inseguono ci sono nella stessa casa questi sono in due fuori safe che mi stanno aspettando e sono dentro la mia casa quindi è imbarazzante questa cosa che sto vedendo sono ancora qua in due nella mia casa ma residenza nettuno è incredibile questa cosa è imbarazzante raga ci muoio nettuno no no non sono snappi raga il pink blue ti darà si è appena aperto il bunker nel pink blue però attenzione molto pericoloso ma è anche molto fuori safe il bunker non mi serve cosa ti trovi dentro 4 medici il problema è che il problema è che tu ci passi dritto sul bunker è molto fuori safe ma è molto pericoloso valuta prima di fare qualsiasi scelta comunque ci devi passare di fianco è molto importante questa partita se buttati dentro nettuno incrociamo le dita vai apri tutto senza perdere tempo splash splash però consuma le splash infatti non prendere queste consuma le splash bravissimo usare tutte riprendi medikit e vai 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 devi volare adesso mettono hai ancora tempo ma devi davvero rientrare fermo fermo forse ci senta la casa davanti hai guardato forse visto movimento no ho flashato forse vai continuo prosegui prosegui 50 secondi prosegui vorrei che tu rientrassi da qua nettuno ok secondo me la conosci già meglio da lì non fare nient'altro fai qua bravissimo bastano i pesciolini tankano di brutto vai vai cammina cammina devi comunque seguire la safe senza fretta però con calma e allora devi volare dimentica tutto e cortico pesci stai però dietro è stai però dietro così come città no bravissimo ok entra 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 va bene va bene bravo nettuno top 14 quella che ci serviva presto compi ci sono mi dicono mi sparano sono morto impossibile skf bk rail mi fate un tracking per cortesia ho beccato un bro giapponese un pro giapponese ma che strano copriti però copriti non puoi pensare di non coprirti continua per l'acqua e continua per arriva fino al da nessuna parte lf2 demon che cazzo dove fa qua che strano ma voi trate lontani si si splittati io a terro di fianco a colonne raga non serve giocare insieme cristo madonna che cazzo non vi entra in testa porca miseria cambio tutto nettuno che vuol dire cambio il mio land ok ma è sempre quindi sempre spittati nonostante beh lì sei stato sfortunato sia te che io e tra l'altro siamo morti subito quindi god sono tranquillo nettuno si è messo male un piccolo problema questo tipo questo accanto uno scoglio e sono bloccato mi possono immuovere e piccolare si è incastrato se c'è uno dietro a me che sta venendo proprio dietro di me cosa spiega dai dammela centrale ok io vado a tana e vattano che si chiude lì che si chiude da lei che è deltaplano ho sentito il delta ho sentito un deltaplano non l'ho visto ma non sempre ho visto non si è visto ma l'ho sentito era quello con ovvero c'eva così ama basta fight single adiccu di posizionarsi in un punto massa bello è simulato dice del panico non si capisce non capisce nemmeno lei cosa che sta facendo è già così è meglio io sto facendo una cosa seria e tu stai devo fare altri sei punti e siamo a posto ma adesso sborra e poi verano subito l mi sento giustamente rispetto a quello che vedo io banana veloce basta corri va bene abbiamo presi un'altra volta dopo 14 va bene va bene va bene va bene va bene no non riusciamo cioè allora non è che non riesce a qualificarti la situazione cambierà fra circa 35 minuti dove 40 220 220 se fra 35 40 minuti cambia tutto perché i game diventano molto più light le prime top inizia a prenderle anche dalla seconda safe anche lei c'è gente si guarda sotto il ponte con no 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 c'è gente gente non posso aspetta un attimo adesso la stiamo busciato per esempio no non lo so il lag a sinistra se lo perde troppo tempo e 5 quando toccare un po mettersi a fare i giri del mondo io vengo la prossima safe x u riesce a passare lì c'è gente sulla sinistra se c'è gente si copra x u e si guardi bene intorno bravo bravo scappa così lascia lascia con in continuazione ti puoi boxare quando hai un punto dove non c'è di gesù cristo non fare mai singolo box non in legno mi raccomando forse ho consumato un po però sono vivo eh sì però non c'è solamente un box l'ha fatto faccia due ormai aspetta ormai aspetta ormai aspetta c'è chi di qualcuno in testa non siamo così lontani nettuno dai 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 lendiamo sul tuo eh 3 2 1 vai non è impossibile uno ha già lendato ed è più sotto di me merda molla 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 la nostra isola ok ci hanno rubato il silo sopra il tetto sopra il tetto sopra il tetto si troppo in meno mini si si muove le trovo volevo mettermi dentro abbiamo gente al silo so già dove ruotare dopo un calmo non abbiamo preto salutando pure loro anzi assolutamente ci beccheremo io ho ancora un'arma nettuno c'è gente qua vicino non ho un'arma non ho un'arma trovato ok c'è gente c'è gente c'è gente un e' un e' noccato pucia lì pucia pucia poi ci pare su un contesto con te che succede? è crackato questo è questo prima è crackato c'è un altro un altro team uno l'ha ammazzato erano altri due non erano altri è un altro team ancora che peccato cazzo come prima esci tu è un altro c'è posto con i mazzo sì allora dopo con calma esci tu e lascerai aperto io rimarrò fuori lo offo un po' e rientro con tutta la calma del mondo buona fortuna perché se adesso passiamo in due siamo morti no perché devi lo fare non puoi non potete arrivare top 14 top 10 qualcosa da andrà bene se giocate insieme è meglio non dovete puntare a fare 10 punti qui dovete puntare a fare top 2 calmo 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 giocare insieme due che ci ruotano a sinistra vieni con me mi alzo non mi cappellare non mi cappellare cristo madonna del dio di su cristo vai 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 tutto a destra tutto libero c'è davanti gente però due boxati sopra la scala vieni qua con me si guardi pure un po' a sinistra quando ruota visto che vedi in metallo nettuno io non so dove cazzo sei fai quello che ti pare io sono boxato in safe bravo chi sta se riesci a raggiungermi io sono in safe se non riesci e se mi push io sono morto no devi venirti a chiudere vai dai guardati bene intorno e cammino ai 4 bolle da poter usare non so quanto sono utili con questo adesso splash o nettuno eh tira una splash no non l'ho bruciato ottimo torno indietro è tutto nostro roba tua questa giusto si bravo nettuno quello lì in fondo non è nostro hai mattone build a mattone e metallo lascia perdere legno adesso per la rotation gente dietro non mi prendere gli edit non mi prendere gli edit non l'ho presi non ti allargare vai dritto se no incroci sempre più gente vai dritto per andare alla wealth line mi sa che la zipline mi scivola boxiamoci un attimo andiamo avanti devo avanzare devo avanzare sprecate i maz tempo e la gente che vi può dare andate 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 sono morto porco diaz scendi dentro non vieni sono morto da caduto ho trollato un po' a spillare così però non build a questa è la non si è agganciato mi spiace ho trollato io madonna di jesus cristo madonna scendi dentro non vieni sono morto da caduto mi spiace ho bruciato io l'fncs non si sono agganciati i muri che devo fa mi spiace ho trollato io madonna di jesus cristo madonna questa era la partita per le qualifiche questa era era questa porca che era la partita mi spiace e mi spiace tutti bussiano eh è mortato c'era liberi dolosissime troppo forti troppo forti ciao king scorpion grazie dei venti buongiorno un abbraccio e buon lavoro il cuore rosso e tu non stai chill figati pure sto bush e staci ci sono due assatanati dentro la adesso punto mi sento c'è morto ancora no non ti muovere non ti vuoi non ti vuole neanche se ti entra nel bus non fare nulla ti entra nel bus e muoverti non ti entra più adesso che sparano god la scelta di tana è perché tana secondo me rimaneva in safe se non ci fossero stati quei due la mi sarei boxato e sarei vivo però ancora si rivela giusto il fatto se questi qua ce li beccavamo in due a tana era morto in due poi si scopavano il culo in un secondo in realtà meglio così netto che posizione del cazzo cioè in realtà sei vicino alla zona quindi puoi muoverti anche con un mini tarp se proprio ti interessa ma adesso non hai fretta adesso sei fottuto sono super fottuto si 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 sei fottuto ah non hai proprio nulla no buttati a cercare l'ulto alla casa no la casa esterna a sinistra nell'acqua nell'acqua né tu eh ormai sono andato qua eh vai vai se lo trovi qua perfetto ammazzavo beh ci abbiamo messo tutta eccomi tornato ma ci sono agganciati i muri eh che cazzo ridi coglione che cazzo ridi e volevo dire e quello è stato si è lanciato nel dirubo dico voglio morire guarda che ci sono agganciati i muri eh fe si ma si lancia porco dio ma non mi sono lanciato eh fe grazie a tutti Grazie a tutti.